Giacomo si è nuovamente avvalso della facoltà di rispondere dicendo che non si sente pronto a farlo e che i suoi ricordi sono molto confusi e quindi il giudice dovrà solo verificare se ci sono o meno gli estremi per la regolarità dell'arresto, cosa che ritengo che ci sia. Ha fatto scena muta di fronte al GIP Giacomo Ciriello, il 18enne che nella notte tra domenica e lunedì a Lucignano con un colpo di fucile ha ucciso il padre Raffaele di 51 anni. Si è svolta mercoledì mattina nel carcere Aretino di San Benedetto nel quale si trova il ragazzo, l'udienza di convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loprete. Taciturno, uno sguardo un po' perso così. Sul giovane grava la pesantissima accusa di omicidio volontario, quelle aggravanti della premeditazione e del vincolo di parentela. Il ragazzo non ha chiesto di poter incontrare la madre, è unicamente richiesto di poter ricevere dei libri in carcere. Mi ha rinnovato l'invito di chiedere alla madre di rispettare la sua volontà in questo momento di rimanere da solo. Mi ha detto che sono in arrivo a un grosso 32 volumi che lui ha ordinato e che gli devono arrivare per corriere. È preoccupato perché non avendo più il suo cellulare che aveva dato a disposizione del corriere per la consegna, chissà che fine farà. La difesa del 18enne a breve potrebbe richiedere una perizia psichiatrica sul giovane. Io ho in animo e spero che lui acconsenta di far sì che venga visitato da un suo medico per capire come sta perché questo credo sia la cosa più importante, capire il suo stato di salute attuale e poi ovviamente dal punto di vista mio processuale capire anche quale potesse essere quello al momento in cui è successo il fatto. Che poi tutto questo si traduca in una perizia, la perizia considerate che può essere un boomerang. Intanto dall'autopsia sul corpo del padre eseguita mercoledì mattina al San Donato di Arezzo dall'equip di medicina legale dell'Università di Siena emergerebbe che i colpi esplosi dalla doppietta siano stati più di due. Il primo verso la campagna, prima del ritorno del padre ed altri due contro la vittima. Uno fatale allo zigomo sinistro e l'altro invece avrebbe colpito il 51enne ad un braccio. Da accertare ancora se il primo colpo sia stato al volto o l'inverso.